Buongiorno ragazzi, spero stiate tutti bene, come sempre giù di Muscola Vita Nel video di oggi vi parlo di Mayo Reps, che è praticamente una tecnica avanzata di allenamento che ho notato che sta riuscendo un pochino fuori Mayo Reps è la stessa cosa di Cluster Sets, è la stessa cosa di Rest Pose Training per chi no body ha diciamo diversi nomi, ma è stato inventato come Mayo Reps da Borghe Fagherli che è uno dei appunto dottori nell'ambito scientifico di allenamento detto questo, sono le 8 e mezza del mattino, sono un pochino stanco alle 10, 10 e mezza, penso di andare in palestra e filmare tutto l'allenamento per darmi una spiegazione più dettagliata di Mayo Reps, di che cos'è io spero che vi piaccia il video, mi raccomando lasciateci un like se è così e ci vediamo dopo l'unica cosa che mi prendo pre-workout sarà questa banana e mi faccio anche un misurino di queste Impact Whey di My Protein queste hanno per ogni scoop 20 grammi di proteine il gusto del natural chocolate che è il migliore, ve lo dico ragazzi non provate gusti strani che sennò rimarrete delusi perché sono molto chimici andate sui gusti naturali, natural chocolate, natural vanilla, natural banana queste cose qua, che sono i migliori quindi solo uno scoop, una banana pre-workout, non mi appesantisce troppo vediamo come va buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro voice over oggi ho deciso di provare una cosa diversa ho pensato, non vi porto un allenamento completo proprio mai in due anni e mezzo che ho fatto video su YouTube non mi ho mai fatto vedere esattamente tutto dall'inizio alla fine ho sempre saltato qualche esercizio e non vi ho mai, diciamo, non ho mai avuto la possibilità di parlarvi esattamente come vorrei di tutte le cose quindi oggi sarà una porzione molto lunga del video ma spero che sia abbastanza informativa per voi prima cosa, mobilità e riscaldamento come state vedendo qua prima degli allenamenti faccio di solito un 5, direi 5 minuti di riscaldamento attivo non faccio stretching perché lo stretching è stato dimostrato più volte dalla ricerca scientifica che in realtà riduce l'output di forza quindi riduce la performance, riduce la forza che riuscite a sviluppare durante l'allenamento quindi invece preferisco fare probabilmente questo mobilità e stretching attivo in cui sono sicuro che faccio, diciamo, riscaldare le spalle oggi è una giornata di petto, spalle e precipite è la giornata di push quindi voglio essere sicuro che tutte le spalle, i rotator cuffs, la schiena sono tutto bello riscaldato, quello è il mio obiettivo per la mobilità quindi mentre oggi magari era solamente un percorso di 5 minuti se ad esempio faccio squat o faccio deadlift o magari sono stato tutto il giorno seduto allora lì faccio un percorso di mobilità un pochino più lungo voglio iniziare, devo essere caldo quella è la cosa principale perché non devo fare altro che riscaldarmi per evitare di infortunarmi poi prima di iniziare col primo movimento ho fatto, come vedete lì, delle push-ups per quale motivo? perché quello è, diciamo, l'ultimo step del mio riscaldamento nella giornata di push, come vedete in questo momento quindi per ricapitolare, mobilità dovete farla per riscaldarvi non dovete mai iniziare un esercizio completamente a freddo cioè chi fa cardio prima, io consiglio massimo 5-10 minuti di cardio non volete stancarvi ancora una volta perché la cosa importante è elevare la vostra temperatura corporea poi, come detto, giornata di push di ipertrofia il primo movimento di questo mesociclo è il flat dumbbell bench press come vedete qua faccio ovviamente delle serie di avvicinamento per lo stesso identico motivo perché voglio piano piano aumentare il peso per essere sicuro che riesco a controllarlo e per non andare direttamente al peso massimo che utilizzerò per poi rischiare un infortunio quindi questa è una cosa molto importante sui primi movimenti faccio due o tre serie di avvicinamento dove piano piano aumento il carico avvicinandomi al carico che utilizzerò nella serie principale quindi qua ho fatto 22,5 kg, ho fatto 30 kg di solito faccio dalle 5 alle 10 ripetizioni ancora una volta solo per far passare il sangue, non per stancarmi ed eccoci qua col primo vero set della giornata così sono 35 kg al lato di manubrio come vedete è bello controllato full range of motion ragazzi volete arrivare in cima e volete praticamente arrivare a toccare il petto questa è una cosa buona dei manubri che in realtà è range of motion è anche più ampio rispetto al bilanciere perché il bilanciere si blocca al petto con i manubri potete in realtà scendere ancora di più se volete primo set ho fatto mi sembra 12 ripetizioni devo dire che mi sono spinto tanto però prima di fare questa serie avevo controllato sul mio telefono quanti ne avevo fatto l'ultima volta e ne avevo fatte 10 quindi il mio obiettivo era di farne 11 o 12 perché la cosa importante è la progressione col passare del tempo volete sempre battere la vostra seduta precedente o comunque se utilizzate un metodo di progressione appunto tipo daily undulating periodization che è quello che sto facendo io allora volete che ogni sessione di ipertrofia state facendo un pochino di più della sessione di ipertrofia della volta precedente questa è la seconda serie sempre con i 35 era un attimino più stanco una cosa molto molto importante è la posizione delle scapole in questo movimento se vedete il mio busto è abbastanza stabile ho addotto le scapole il ritratto è addotto le scapole e questa è una cosa molto importante se volete veramente sentire il vostro petto che lavora invece che le spalle perché una cosa molto comune che facevo anch'io un sacco di tempo all'inizio è semplicemente invece di mettere il petto in fuori e appunto addurre quelle scapole quando prendiamo il peso il petto viene un attimo in dentro le spalle vengono protratte in avanti e poi in realtà stiamo spingendo col deltoide anteriore invece di stare spingendo col petto quindi spero che riuscite a vedere in questa inquadratura veramente come arco la schiena metto il busto e il petto in fuori e in questo modo uno riduce un sacco i rischi di infortunio infatti da un bel po' di tempo che non mi sto infortunando beh grattamo se ma un bel po' di tempo che non ho un infortunio almeno un anno e mezzo mentre prima avevo il problema che mi sentivo appunto lavorare tanto le spalle avevo abbastanza male le spalle ma proprio perché le stavo caricando mentre in realtà volete caricare il petto con questo movimento allora primo set ho fatto 12 rep nel secondo mi sembra che non ho colpite 11 nel terzo non ho colpite solo 10 infatti vedete lì la mia faccia la cosa importante quindi è che nella prossima seduta di ipertrofia la stessa giornata provo o a fare la prima da 12 la seconda da 12 e la terza appunto di nuovo 10 o 11 la cosa importante è che aumento le ripetizioni una volta che arrivo a tutte e tre le serie per 12 ripetizioni che è il massimo del mio range dato che mi sono detto che facevo le ripetizioni tra le 10 e le 12 quindi quando arrivo a 12 con tutte e tre le serie è lì che aumento il carico e passerò ai 37.5 kg cosa importantissima volete che la forma sia corretta come detto per evitare di infortunarvi perché se voi iniziate ad aumentare il carico troppo rapidamente questa è una cosa che io ho sbagliato anche all'inizio perché si sente anch'io lo dico spesso ragazzi dovete aumentare il carico dovete aumentare il carico sì ma sempre 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 attenzione a quella forma ragazzi se no se voi state facendo qualcosa di sbagliato e aumentate il peso aggravate solamente la situazione e rischiate ancora di più di spaccarvi e quella è proprio la cosa peggiore se vi fate male perché lì dovete prendere mesi di stop dalla palestra è lì che perdete un sacco di progressi allora primo movimento flat dumbbell press passato al secondo movimento che era questo incline bench press dalla smith machine diciamo che la smith machine ha un po' i pro e i contro di solito non la faccio perché ovviamente come sapete se usate un movimento con i free weights quindi ad esempio il bilanciere non ha la smith machine in realtà reclutate tutti i muscoli che stabilizzano quindi non solo il petto qua ma tutti i muscoli stabilizzatori qua dato che è un movimento invece guidato attivate di meno questi muscoli però è vero che come secondo movimento della giornata se voi vi concentrate sul primo a fare un movimento appunto o col bilanciere o con i manubri come secondo movimento per sentire bene la contrazione nel petto in questo caso dato che sapete è il mio punto debole per questo inizio con due movimenti per il petto per sentire un pochino meglio la contrazione qui ho messo un po' una panca inclinata per colpire o comunque andare a focalizzare un pochino di più sulla parte superiore del petto e è un movimento molto molto controllato vado giù lentamente vedete come controllo e con questa macchina mi risulta un attimino più facile non la consiglio a tutti non la consiglio sempre è da utilizzare strategicamente se siete stanchi oppure appunto come avete visto come secondo movimento per il petto qui passo al terzo movimento e questo è una shoulder press quindi questa magari voi la chiamate military press io la chiamo overhead press con bilanciere come vedete qui ovviamente faccio ancora le serie di avvicinamento l'ho fatta sia per il primo movimento che per il secondo movimento che per il terzo movimento per quale motivo? semplicemente perché qua con le spalle sì è vero le abbiamo allenate con gli altri due movimenti ma comunque questo è un movimento che li va a colpire soprattutto loro quindi non voglio subito passare a un carico pesante ne faccio solamente una di avvicinamento avete visto 10 kg al lato e qui ho messo 15 kg al lato target di ripetizione sono 10 ripetizioni la volta scorsa avevo fatto 13.75 kg al lato per 10 ripetizioni quindi ho saltato passato al prossimo incremento che è 15 kg al lato ancora una volta il mio target sono 10 ripetizioni se ne colpivo 8 o 9 non era un problema la volta dopo potevo aumentare ma diciamo che per quale motivo appunto sono passato subito ai 15 kg e ho subito colpito il 10 ripetizioni non è che sto facendo dei gains pazzeschi semplicemente ho rivisto un attimo la mia forma che usavo in passato non ero totalmente contento quindi sono andato indietro ho rivisto tutto ho rivisto la biomeccanica ho rivisto il pattern del movimento e per questo ho abbassato il carico quella è una cosa importante a volte dovete mettere l'ego da parte dovete accettare che dovete rivedere la forma diminuire il carico e ripartite con la progressione questo è meglio che infortunarsi perché avete l'ego e dite ah no ma io devo farlo per forza quindi fate 20 kg mi raccomando questo è il secondo set che vedete qui una cosa importante di cui non ho parlato è l'impugnatura su questo esercizio io vi dico sempre andate a impugnare col pollice e indice quindi prendete la sbarra col pollice e indice e poi ci mettete le dita accanto se alcuni di voi mi dicono ah ma ho male al polso quando faccio questo movimento ragazzi è perché non tenete il polso dritto anche qua infatti sto vedendo il polso è un attimino piegato la linea del bilanciere deve essere veramente direttamente sopra ecco lì ho piegato non va bene deve essere direttamente sopra gli avambracci perché dovete avere una trasmissione della forza che è praticamente dritta se non iniziate a perdere forza in tutte le articolazioni ecco qua che finalmente vi parlo di Mayo Reps che cos'è Mayo Reps? allora come funziona? praticamente voi fate una prima serie con un carico abbastanza leggero di solito fate 12 15 20 ripetizioni ripetizioni e come sapete se voi scegliete un carico più basso in realtà la reclutazione massima di tutte le fibre muscolari avviene solamente nelle ultime ripetizioni pensateci se voi fate 15 ripetizioni le prime 10 11 12 quasi è solo per affaticare il muscolo e sentire che state lavorando ma poi in realtà quelle effettive quelle intense quelle efficaci sono le ultime 2-3 ripetizioni sono quelle che iniziano a bruciare che cos'è Mayo Reps? primamente fai un set da 15-20 ripetizioni e poi invece di pausare magari 1-2 minuti fai una pausa di 2-3-4-5 secondi ok? io di solito faccio 2-3-4 respiri profondi e poi riparto per un mini set e provo a farne quante riesco di solito sono tra le 3-4-5 ripetizioni per un mini set e continuo così altri 3-4 respiri e faccio un altro mini set se riesco a continuare a fare i mini set da 5 ripetizioni continuo fin quando non riesco più a fare 5 ripetizioni fin quando non riesco più a fare 4 ripetizioni fin quando scendo a 3 ripetizioni allora lì mi fermo e di solito sono magari 4-5 massimo 6 mini set e poi non ce la fate proprio più questa è la tecnica di Mayo Reps si chiama Cluster Sets Rest Pose Training se seguite il Kino Body e lo faccio sui movimenti accessori movimenti di isolamento finale alla fine dell'allenamento non lo utilizzo per i miei movimenti composti li faccio semplicemente straight sets ma verso la fine li posso li utilizzo diciamo strategicamente e quando li consiglio li consiglio uno se avete poco tempo di allenamento diciamo che magari che ne so state in viaggio oppure invece di un'ora avete 30 minuti avete meno tempo a sto punto fate questo questo vi permette uno di accumulare il volume due di effettivamente ed efficacemente colpire tutte le fibre muscolari in un tempo molto ridotto e con un carico ridotto quindi come detto dato che le ultime ripetizioni sono quelle effettive quando tu fai tutti questi mini set praticamente ti stai mantenendo in quella condizione di affaticamento e di efficacità diciamo se possiamo dirlo in questo modo quindi questo è il concetto di my reps consiglio se avete poco tempo consiglio anche se volete un attimino cambiare il vostro stimolo nei movimenti di isolamento lo potete fare come avete visto là per i tricipiti lo potete fare sul deltoide laterale lo potete fare sui bicipiti e potete progredire come lo usi e come puoi applicare il suo carico progressivo su questi movimenti beh semplicemente provi a fare un ulteriore mini set ogni singola sessione quindi se oggi ne hai fatti 4 la sessione dopo provi a fare 5 mini set quella dopo provi a fare 6 mini set e poi metti una volta che ne fai 6 o 7 dici ok adesso a sto punto alzo il carico e riparto da qua questa è come fare la progressione con i myo reps penso che spero di avervi fatto capire più o meno quando utilizzerei questa tecnica una tecnica avanzata come detto che è stata riportata in questi giorni per questo mi è venuta un'idea di fare il video da Alberto Nunez che è uno di natural bodybuilder più famosi e che più esperti diciamo e lui praticamente si allena molto in questo stile perché dice chi gli piace che accumula il volume non stai così tanto in palestra e comunque è molto molto efficace come vedete qua lo faccio anche sui cable flies che altro due ultime cose non vi ho detto che in molti dei movimenti soprattutto in quelli dove spingete in alto il peso quindi ad esempio overhead press quando per essere stabili dovete trovare una posizione stabile dei piedi e dovete contrarre i glutei e un pochino gli addominali dovete veramente se voi non utilizzate una belt come io non utilizzo una belt ovvero la cintura dovete veramente contrarre i glutei e contrarre gli addominali in questo modo create la pressione necessaria per mantenere la stabilità niente io spero che vi sia stato utile questo voice over so che è stato lunghissimo vi ringrazio tantissimo è stato ancora qui ad ascoltare penso che saremo veramente pochi ma penso di avervi dato delle buone informazioni e se siete rimasti fino alla fine io spero che vi sia stato di aiuto vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto e grazie per appunto aver visto tutto il video spero che sia stato informativo penso di sì e fatemi sapere se volete più video come questi perché a me piace farli io comunque anche se sto facendo meno video in realtà è perché sto studiando di più quindi voglio veramente imparare tutto il possibile per poi potervi aiutare a fare degli altri video con la ricerca scientifica che poi potete appunto applicare voi nel vostro allenamento e iniziare a vedere ancora più risultati a me la cosa che mi carica tantissimo è quando so che alcuni di voi hanno implementato i consigli che magari vi do io che alla fine viene dalla scienza e effettivamente proprio come me state iniziando a vedere i risultati un'altra cosa ragazzi dovete guardare gli altri perché gli altri non hanno la stessa genetica di voi dovete guardare voi stessi e ogni singolo giorno dovete migliorarvi piano 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 purtroppo genetica conta tantissima nel bodybuilding ma questo non deve fermarvi voi dovete diventare la migliore versione di voi stessi e quello siete ecco quello è l'obiettivo se no avete perso in partenza questa è la cosa del fitness è una maratona non uno sprint fatemi sapere cosa ne pensate di MyRap se li provate vi assicuro che il pump è un bel pump niente vi ringrazio ancora una volta ci vediamo nel prossimo video ciao ciao